Come sapete io sono un grande appassionato di calcio. Io condivido con il mio amico John Kerry, che è segretario di Stato degli Stati Uniti e che con lui giocavamo il sport di calcio a nostra università insieme. Domenica si giocherà la finale della Coppa Italia tra Roma e Lazio ed io voglio augurare alle squadre e alla città di vivere una bellissima giornata di sport senza violenza e all'insegna del fair play. Forza Roma, forza Lazio, forza Italia. Grazie. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. 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 Grazie.